Avete mai provato le polpette di pane raffermo e peperoni? Vediamo insieme come realizzare. Per prima cosa versate l'olio extravergine d'oliva in una casserola, mettiamo uno spicchietto d'aglio, facciamo rosolare e aggiungiamo pezzettini di peperoni. Adesso facciamo rosolare e poi mettiamo un po' di sale e li facciamo ammorbidire. Facciamo ammorbidire acqua e pane, io ho messo le frese. Impastiamo, mettiamo i peperoni e poi aggiungiamo un po' di parmigiano o altrimenti del pecorino, l'uovo, il basilico, il pepe e impastiamo il tutto. Adesso prelevate con un cucchiaino l'impasto e create delle palline. Farò due versioni, quindi alcune le schiaccerò leggermente. Caldare abbondante olio di semi e quindi friggere una parte di polpette. Sferite le altre polpette nella frigitrice ad aria, ovviamente consiglio di mettere l'olio sia nella superficie che nella parte bassa. Lasciate in cottura a 200 gradi per 12 minuti. Adesso scolare su carta assorbente le polpette fritte. Mmm, che profumino! E le altre le girate a metà cottura e successivamente sono pronti da servire. Grazie!